ciao a tutti bentornati nel mio canale ebbene sì oggi parleremo di lui il narcisista però per meglio capire il fenomeno andremo prima a spiegare cos'è il narcisismo patologico la parola narcisismo proviene dal mito greco di narciso secondo il mito narciso era un bel giovane che rifiutò l'amore della ninfa eco come punizione fu destinato a innamorarsi della propria immagine riflessa in uno specchio d'acqua incapace di consumare il suo amore narciso rivolge lo sguardo rapito nello specchio d'acqua ora dopo ora infine viene mutato in un fiore che porta ancora oggi il suo nome appunto il narciso il concetto di eccessivo amor proprio è stato riconosciuto e preso in esame nel corso della storia ma solo in tempi recenti è stato definito in termini psicologici oggi il narcisismo e più in particolare il quadro di disturbo narcisistico della personalità viene definito come una struttura di personalità molto complessa il soggetto che ne soffre sviluppa una vera e propria sorta di fissazione per l'immagine che rimanda agli altri presta infatti enorme attenzione a quelli che sono i feedback su di essa da parte delle persone con cui il narcisista intesse relazioni più o meno strette soggetti che manifestano narcisismo patologico sono tendenzialmente assorbiti da fantasie di grandiosità e successo illimitato spesso manifestano un bisogno quasi esibizionistico di attenzione e di ammirazione da parte degli altri inoltre queste persone sono incapaci di riconoscere e percepire sia le valutazioni che i sentimenti degli altri tendono a sfruttare il prossimo per raggiungere i propri scopi così come a disprezzare il valore dell'operato altrui forse la caratteristica peculiare del narcisismo patologico è proprio la mancanza di empatia da questa deriva la convinzione che le proprie esigenze vengano prima di ogni altra cosa i narcisisti sostengono inoltre che il loro modo di vedere le cose sia l'unico giusto universalmente dietro questa maschera però il narcisista patologico presenta solitamente una fragile autostima che lo rende vulnerabile a quelle che lui percepisce come critiche spesso i narcisisti credono infatti che gli altri li invidino ma sono ipersensibili alle critiche ai fallimenti o alle sconfitte alla dimensione rappresentata dalla tendenza alla grandiosità unicità e superiorità si contrappongono quindi sentimenti di inferiorità fragilità vulnerabilità e paura del confronto quando si trovano di fronte all'incapacità di soddisfare l'elevata opinione che essi hanno di sé i narcisisti possono arrabbiarsi talvolta sviluppano attacchi di panico si deprimono profondamente o addirittura possono tentare azioni autolesive impatto del narcisismo patologico può essere significativo in molti settori della vita come le relazioni il lavoro la scuola è ovvio che le conseguenze dei comportamenti del narcisista possano rivestire un ruolo centrale anche nel lavoro psicoterapeutico in cui si instaura una relazione d'attaccamento per eccellenza le cause del narcisismo patologico non sono definite in maniera chiara ed univoca spesso questo quadro risulta dalla combinazione di più fattori sociali e biologici che intervengono nel corso dello sviluppo dell'individuo in particolare lo sviluppo del disturbo può essere favorito dalla crescita in un ambiente familiare invalidante caratterizzato da un'inibizione comportamentale da parte di due genitori iper esigenti il disturbo narcisistico di personalità può risultare anche dalla crescita in un ambiente familiare incapace di fornire al bambino le necessarie attenzioni emotive la scarsa empatia del narcisista patologico diventa centrale nelle relazioni soprattutto sentimentali dall'esterno la persona con elevati livelli di narcisismo sembra la persona ideale quella che tutti sognano inserita molto bene a livello sociale e professionale solitamente è abile nell'apparire per quello che non è prima forma di manipolazione che mette in atto e spesso molto dotato a livello intellettuale e appare molto sicuro di sé anche se ha bisogno di nutrire costantemente la propria autostima in realtà infatti il mondo interiore del narcisista è caratterizzato da un grande vuoto gli sono spesso mancate le gratificazioni da parte della madre chi soffre di narcisismo patologico ha subito dei traumi nelle relazioni di attaccamento non è stato protetto negli sono state fornite delle regole una volta divenuto adulto deve tenere sotto controllo gli altri il mondo che lo circonda quando predomina il narcisismo patologico l'altro non esiste e tutti i tentativi che il partner farà per cercare di cambiare la persona saranno inutili il narcisista è infatti insensibile alla sofferenza altrui non è empatico e non sa provare sentimenti anche se fa di tutto per apparire una persona sensibile ed empatica le fasi della relazione con un narcisista patologico si possono riassumere in tre la prima fase è la seduzione colui che presenta alti livelli di narcisismo mostra il meglio di sé in questo momento presta molta attenzione a mostrare un falso se mentendo recitando una specie di ruolo l'obiettivo è che l'altro si innamori e si occupi di lui inizio pertanto mostra un lato vulnerabile di sé provando ad attivare il senso di accudimento nel partner raccontando spesso un'infanzia infelice evoca nell'altro il desiderio di farlo felice a tutti i costi cambiandosi modificandosi per andare incontro alle sue aspettative entrando così nel circuito della sfida il partner è convinto di riuscire a soddisfarlo e di poterlo cambiare fase 2 l'intromissione i due partner formano una coppia e le il soggetto con narcisismo patologico agisce per isolare l'altro dalla famiglia dai suoi amici dal lavoro a livello individuale agisce facendolo sentire sempre più fragile attraverso l'uso della critica che dapprima usa in modo sottile poi sempre più pesante socialmente il narcisista è molto apprezzato pertanto se il partner si lamenta con la sua famiglia o con le persone che ha come punto di riferimento queste tenderanno a sminuire le sue osservazioni fase 3 distruzione dell'altro il narcisismo patologico emerge con tutta la sua forza e il soggetto diventa più esigente violento geloso e distante questo punto della relazione è già riuscito a far sentire l'altro una nullità insicuro di sé spesso privo di valore non è insolito che il narcisista utilizzi violenza verbale e o fisica a livello verbale alterna momenti di dolcezza a momenti di aggressività e sono proprio di queste oscillazioni a rendere ancora più dipendente il partner che si destabilizza e non sa più come comportarsi esita a perdonarlo e poi lo perdona pensando che cambierà attraverso i maltrattamenti psicologici emotivi e molto più raramente fisici il partner si paralizza perdendo così le proprie capacità cura del narcisismo patologico il trattamento di questo disturbo è concentrato sulla terapia cognitiva che spesso richiede tempi prolungati e un grande impegno soprattutto da parte del terapeuta questi deve costantemente auto monitorarsi e monitorare la relazione e i vari cicli interpersonali che si possono attivare con il paziente narcisista il trattamento del disturbo narcisistico di personalità risulta spesso molto difficile il quanto il paziente non è solitamente consapevole della propria problematica e dell'effetto che questa provoca sulle altre persone le tradizionali terapie antidepressive non hanno efficacia sul narcisismo patologico il disturbo può essere gestito con una terapia cognitivo comportamentale a medio lungo termine ma necessita di specialisti che enfatizzino l'empatia e non contestino il perfezionismo dei propri pazienti i sentimenti di privilegio e la grandiosità bene questo per oggi è tutto vi do appuntamento al prossimo contenuto una continuazione di giornata ciao a tutti da gossip ciao a tutti